Intermark System è un'azienda attiva da 40 anni in Italia e operiamo nell'ambito dei sistemi di controllo da circa 20 anni. Le nostre aree di competenza sono le missioni di offerte di prodotti e servizi e la progettazione di sistemi integrali. Le aree di maggiore applicazione di sistemi di controllo luci sono gli uffici, gli alberghi, i negozi ed infine sicuramente il settore residenziale. Lavorare in partnership con Philips ha aiutato senza dubbio Intermark System a migliorare la propria brand recognition verso il mercato e quindi poter approcciare clienti, consulenti e architetti importanti. Lavorare con i prodotti Philips dà noi e i nostri clienti finali la garanzia di avere le soluzioni più innovative presenti sul mercato. Altro aspetto fondamentale è la formazione che abbiamo verso i nostri riprenditori autorizzati in tutto il territorio nazionale. L'edificio realizzato nel 2013 ospita il campus biometrico, la facoltà di bioingegneria di Roma e si trova in un'ampia zona verde al sud di Roma ed è noto anche come trapezio per la forma particolare della sua pianta. L'esigenza era quella di disporre di un sistema di controllo luci in grado di gestire e di controllare nel modo più semplice e flessibile possibile tutti i corpi illuminanti presenti nelle aule e nell'auditorium. Lavorando a stretto contatto con lo studio di progettazione siamo riusciti a garantire e a progettare un sistema di controllo estremamente affidabile, estremamente semplice da utilizzare e di grossa soddisfazione per il cliente finale. Abbiamo fornito principalmente dei sistemi di controllo Philips Danalite per quanto riguarda la dimerazione dei corpi illuminanti d'ali e per il controllo di tutte le tende e i teli dei videoproiettori motorizzati all'interno delle aule e dell'auditorium. Nel 2013 è stato costruito, avendo costruito un edificio in questi anni abbiamo deciso di puntare molto sull'automazione, prima di tutto sull'automazione in generale delle aule e di conseguenza anche l'automazione dell'illuminazione e il controllo delle spese energetiche è stato un punto fondamentale. Grazie al telecontrollo Philips noi possiamo mantenere lo stesso numero di tecnici che centralmente e in maniera remota possono governare tutto quanto accade all'interno delle aule. La partnership con Interma Sistemi nasce 4 anni fa successivamente all'acquisizione di Danalite da parte di Philips. Fin da subito abbiamo riconosciuto in Intermac un partner affidabile con cui crescere nel mercato dei sistemi di controllo per l'illuminazione. Ad oggi le due società cooperano sul territorio italiano con una strategia chiara e condivisa di approccio al mercato. Grazie. Grazie.